Meglio la corrente continua o la corrente alternata? Questo dilemma diede vita alla cosiddetta guerra delle correnti. Ne parliamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Come sempre prima di iniziare col video vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sugli altri social, ma soprattutto di attivare la campanellina, perché nelle prossime settimane uscirà il primo video di una nuova serie che porterò sul canale. Vi lascio un trailer del video e poi ritorniamo alla nostra guerra delle correnti. Come abbiamo già detto nel video della legge di Ohm, la corrente è un flusso di elettroni. In particolare, la corrente fluisce nel verso opposto al flusso degli elettroni, poiché gli elettroni sono negativi. Una corrente continua è una corrente in cui gli elettroni non cambiano la direzione in cui stanno andando e vanno sempre nella stessa direzione. La corrente alternata, invece, è una corrente in cui gli elettroni cambiano la propria direzione. Una volta scorrono in un verso e una volta scorrono in un altro verso. Ma questo cambiamento di verso non avviene istantaneamente e bruscamente, avviene gradualmente. Quindi quello che noi vediamo come risultato finale è una corrente che ha un andamento cosiddetto sinusoidale, quello che sta diventando qui. La corrente cresce fino a un massimo, poi lentamente decresce fino a raggiungere un minimo, per poi ritornare del massimo. Nel 1880 Thomas Edison, che era il padre della corrente continua, fondò una compagnia di energia elettrica. E nel 1882 fondò la prima centrale elettrica a corrente continua. Questo tipo di centrale diede la possibilità, a zone in cui non c'era il carbone, di poter avere l'energia elettrica in casa. Il problema di questo tipo di centrale elettrica era che poteva raggiungere poche case e molto vicine alla centrale elettrica. Quindi se si voleva globalizzare l'energia elettrica, bisognava fondare tantissime centrali elettriche. Edison non ballava a questi problemi, era un fermo sostenitore della corrente continua. Negli stessi anni, personaggi come Tesla, Galileo Ferraris e altri importanti scienziati di tutto il mondo, si occuparono anche della corrente alternata. Trovarono delle soluzioni per trasformare la corrente alternata in corrente continua. Quello che avevano notato è che la corrente alternata non aveva gli stessi problemi della corrente continua. Cioè, sulle lunghe distanze non c'è lo stesso dispendio di energia, ce n'è molto meno. Quindi è una rete sicuramente più efficiente, che quindi può raggiungere case più lontane e ne può raggiungere anche di più. Adesso vediamo il perché. La perdita di energia dipende dalla corrente. Quindi dobbiamo cercare di minimizzare la corrente. Ma su quale altra variabile possiamo giocare? Sulla tensione, a differenza di potenziale. Perché la potenza è uguale a V per I. Quindi se voglio minimizzare I, devo aumentare V. Ma non esistevano metodi economici per aumentare V nel caso della corrente continua, mentre esistevano nel caso della corrente alternata. Quindi diciamo che noi abbiamo già la soluzione a tutti i problemi. Perché è nata la guerra? Fu una guerra soprattutto economica, tra virgolette, perché vide nascere un'altra azienda concorrente a quella di Edison e quindi Edison non voleva perdere i profitti. Non fu solo una guerra economica. Questa è stata una guerra tra due personalità, in particolare Edison e Tesla, che uno è considerato il padre della corrente continua e un altro il padre della corrente alternata. Tra Tesla e Edison non scorreva buon sangue. I due avevano collaborato negli anni precedenti nell'azienda di Edison ed Edison l'aveva praticamente cacciato. Quindi tra i due non correva buon sangue e questa guerra non fu solo una guerra economica, ma fu una guerra di ideali. Edison voleva dimostrare a tutti i costi che l'idea di Tesla fosse dannosa per gli esseri umani. Edison organizzava degli eventi in cui elettrificava degli animali con la corrente alternata per dimostrare quanto fosse dannosa. Ma non si fermò solo qui Edison. Lui cercò di dimostrare a tutti i costi, anche costruendo una sedia elettrica bassata sulla corrente alternata. Tesla davanti a tutte queste informazioni non ci sta. Tesla afferma che se ho progettato una corrente così dannosa per l'essere umano, è giusto che io ne muoia. Quindi cosa fa? Si fa attraversare da una corrente alternata e ne rimane indenne, dimostrando a tutti che la corrente alternata non era così dannosa. Questo evento però non mise la parola fine alla guerra delle correnti. Quello che ha segnato invece la fine della guerra delle correnti è stata la vittoria dell'appalto da parte di Tesla della centrale elettrica delle cascate del Niagara nel 1892. Bene, questo era tutto per oggi. Se il video vi è piaciuto mettete like e mi raccomando di seguirmi per la prossima serie che uscirà presto sul canale. È già pronta. Noi ci vediamo nel prossimo video.